Se vi piacciono i DVD, meglio se vieni a vedere. Allora Disney Blu-ray in alta definizione. Bolt, abbaia. Vi farà impazzire. È perfetto! Sei incantevole? Chic! Non è possibile. La senti? C'è aria di cambiamenti. Bella mossa. Sembra magia. Disney Blu-ray riunisce tutta la famiglia con la magia dell'alta definizione. Per saperne di più, vai nel menu dei contenuti speciali e clicca sui fratelli Sprouse. Vuoi qualcosa ad alta definizione? Eccola! Oh no!